destra a sinistra, fischia l'arbitro, nuovo fischio dell'arbitro Luca Vittoria di Taranto e quindi si riparte con il Bologna che quindi se non ci sono stati i cambi ritorna con Bassi tra i pali Zanetti, Simone, Sciarrone e Giuliano, attenzione perché dura veramente poco l'equilibrio nel corso di questo secondo tempo e arriva il gol lampo del Bologna, 20 secondi nel corso del secondo tempo e il gol del vantaggio del Bologna che la sblocca subito, 1-0 qua con l'errore abbastanza